Entriamo all'interno di questo appartamento in Villa in Verbitagora, zona Colle Cottorino, entriamo all'interno di questo bel salone, in questa zona giorno, con cucina abitabile in vista. Nella palazzina è stata la palazzina è stata ristrutturata recentemente, poi li hanno soffritto dell'eco bonus e hanno cambiato di fatto anche gli infissi, sia interni che esterni, hanno cambiato la caldaia e hanno rifatto comunque il cappotto. Qui si esce direttamente sul balcone e affaccia sullo spazio in comune con gli altri appartamenti. Ci dirigiamo nella zona notte e qui abbiamo la prima camera da letto. Al centro c'è un bagno che è molto spazioso, ha sia la vasca che la doccia. e poi c'è la seconda camera da letto. Grazie. 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 Grazie.